Il presidente messicano rende pan per focaccia a Donald Trump. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca aveva più volte creato attriti con il Messico descrivendolo come un paese che manda negli Stati Uniti droga e criminali. Enrique Peña Nieto risponde Ci sono stati episodi della storia umana purtroppo in cui simili espressioni di una stridente retorica hanno portato a scenari fatali nella storia dell'umanità. Ecco come è arrivato Mussolini, come è arrivato Hitler. Trump ha promesso la costruzione di un muro gigante al confine tra Stati Uniti e Messico e afferma che quello già esistente non basta. Il muro è lungo 13.000 miglia, ne servono mille, abbiamo tutto il materiale, possiamo farlo bene e sarà un muro alto, diventerà un vero muro. Peña Nieto ha comunque assicurato che le autorità messicane manterranno relazioni corrette con chiunque vinca le presidenziali statunitensi.